In un anno di governo non si è fatto pressoché nulla e questo l'attacco alla giunta Marsiglio da parte di CGL, CISL e UIL. I sindacati denunciano la mancata organizzazione della sanità abruzzese e l'assenza di politiche incisive e strutturali. Nulla è stato fatto, fanno sapere in un comunicato i sindacati, per migliorare la sanità sulle liste di attesa infinite, sul sovraffollamento dei reparti e dei pronto soccorso, sulle carenze di personale e l'insufficienza dei servizi territoriali. Due delle quattro asla abruzzese inoltre sono ancora senza direttore generale, le altre sono sprovviste del direttore sanitario amministrativo. Ed è per questo che CGL, CISL e UIL hanno consegnato all'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì e al presidente del consiglio Lorenzo Sospiri 17.000 firme di cittadini per chiedere la riduzione delle liste d'attesa, l'assunzione di personale sanitario, il potenziamento della medicina territoriale e l'eliminazione del super ticket. Ai sindacati fa eco l'ex assessore alla sanità Silvio Paolucci, secondo cui questa giunta è troppo lenta e in riferimento alla riforma del regolamento per le cliniche manca di trasparenza nei rapporti tra pubblico e privato. Complessivamente questa giunta non ha fatto un solo atto di programmazione, il tavolo del ministero lo ha giudicato assolutamente generico il prodotto programmatorio presentato e continua a navigare a vista omettendo anche la trasparenza. Le risposte rispetto alle note che ho inviato alle ASL sono del tutto deficitarie, addirittura opache e non vere. Se continuano così andremo fino in fondo rivolgendoci a tutti gli organi di garanzia.